Chiusa la regular season, al secondo posto il Martina punta i playoff, che non garantiranno l'accesso al piano con la vista migliore, ma saranno comunque fondamentali nell'eventualità di un ripescaggio. Per non avere rimpianti però i biancazzurri dovranno necessariamente arrivare fino in fondo e all'orizzonte c'è la sfida contro il Casarano, da affrontare al Torsi con due risultati su tre a disposizione nei 120 minuti. Non proprio un incrocio agevole, nei due precedenti di questa stagione infatti Martina e Casarano hanno diviso la posta in palio sia nel match di andata che in quello di ritorno. Servirà ridurre al minimo gli errori per centrare l'accesso in finale e alimentare il sogno Serie C. Pizzulli intanto proverà ad affidarsi alla verba realizzativa di Ridwan Palermo, che in Valle d'Itria ha trovato il suo centro di gravità permanente dopo un lungo girovagare tra Sud America e Spagna, grazie a un bottino di 16 gol in 34 presenze. Il girone H di Serie D in ogni caso ha riservato più gioie che dolori per il Martina, solo lo strapotere della team Altamura ha arginato la forza di una squadra costruita con criterio in estate e guidata sapientemente da Mr. Pizzulli, che ora cercherà di chiudere nel migliore dei modi.